Finalmente siamo nel quinto mondo, il quarto mondo è finito, tutto va più veloce, non è più tempo della commiserazione di piangerci addosso ma è tempo della compassione benevola, quindi rimbocchiamoci le maniche, diamoci da fare perché abbiamo un sacco di cose da fare e non piangiamoci più addosso. Grazie